Salve a tutti giocatori e benvenuti nel nostro nuovo video Oggi andiamo a rivedere tutto il set di Fodon Hypernova L'unico set, o almeno l'unico set dell'ultimo periodo, degli ultimi anni, che non c'ha nuovi archetipi C'è l'unico, tra virgolette, nuovo presentato a Chaos Synchron Ma Chaos Synchron è giusto un'evoluzione al caos, non lo considero propriamente un nuovo archetipo Quindi è un set di soli supporti, è un set esclusivamente di soli supporti Forse è buono quando ti vuoi comprare il box perché c'è solo supporti e quindi quello che te prendi, prendi Cioè se hai tanti deck inerenti a questi tipi, va bene, però vabbè, andiamo a rivedere tutto il set e vediamo Prima di iniziare, come sempre, i miei video scrivono a secondarmi Prima di sempre aggiornati col mondo di Yuge e non solo, grazie mille E partiamo Allora, abbiamo i nuovi supporti Galaxy Mi aspettavo, sinceramente, qualche altra carta, sono sincero Cioè, sono tipo 8 supporti nuovi Pensavo che una decina ci arrivassero Sono forti, ma confrontandomi anche con persone che sono più esperte nel deck Perché mi hanno detto che comunque non sono quello che il mazzo alla fine ricercava Poi, la facciamo finita di mettere tanti Kuribo Uno per archetipo che sono completamente inutili per cortesia Basta, anche basta Poi, supporti Vistial e Svursoul Xatrila che diventerà ultra meta Maledettamente Quindi abbiamo uno Xatrila, Rise Heart Uno Scaleclaw e un Tearlaments Poi, appunto, i supporti Chaos Synchro Che non sono male Che non sono assolutamente male Magari l'archetipo non è sbroccadissimo Però è molto interessante vedere come si comporterà Abbiamo supporti insetto Vabbè, questo è incommentabile Quelli del Broghito sono incommentabili Gli altri sono anche più carini Supporti Abyss Actor Per non la male, anche loro Ninja, Gishki Evil Eye Ma anche Generator Eh, lui è molto buono Lui è un insettore veramente molto forte Tra l'altro con i Draptrix Con le Draptrix che usciranno Che sono piante insetto Insomma Molto, molto buono Mantico Cioè, supporto per spaccatura e schiacciare nel 2022 Cioè, io sono contento da vecchio fan Però non ci fa niente Choju Che se fosse stato di livello 4 S'errebbe stato veramente gigantesco First Tiger Che vabbè, c'è l'effetto figo Ma non è niente di che Abbiamo qualche comunaccio Hiding it's sheen Una nuova trappolina Inter... Trappolina Entra Interessante Abbiamo Ah, giustamente Mi sono dimenticato di dire Che è uno dei quei set In cui ci sono state le bestie Cioè, tutti giganti Tutti livello 8 9 4 mila Non si sa che gli ha preso sto set E infatti Con il fatto che non c'è un nuovo archetto Ci ha messo un botto Per presentare le carte Infatti mi ditevo Ma Ma ste carte quando arrivano Quindi abbiamo Dogmatica Che ti harà la mano Ti harà l'extra Che fa quello che gli pare Può essere negato da un failure Però fa quello che gli pare Poi Heavy gishki Ok Abbiamo supporti ovviamente Per la lord Albats brand Despia Quello che volete Eccoli qui Perfect crit Insect Un altro supporto ninja Valiance Altro gigantesco bestione Abbiamo la ice jade Anche lui Carta molto buona Abbiamo il caos Archifend Caos beast La navetta Plunder patrol Circle of fear Galaxy C62 Galaxy Photon dragon Gigante champion Sargas Arise heart Che Consentirà A Prendere il mazzo Ancora più Bastardo Geneticamente parlando Generator Supporto generator Da prenderà Assolutamente Quindi magari Se non avete il mazzo Volete un mazzo Che Dovrebbe costare Troppo Interessante Da utilizzare Andate Prima che Avete il prezzo Trip brigade Pompatissimo Gigantissimo Ma anche Abbastanza Inutile Abyss actor Che Sorvo Lash E Dynamond Che è utile Per le carte Rituali Poi abbiamo La galaxy Andrade No Creation Heat Ice Jade Dove spring Azterion Dogmati Dogmati Branded Light Che ti evoca Comunque Albaz Come sempre Che dà un accenno Di lore Xadrila Mammia Prime planet Paraisos Giustamente Perché Dobbiamo Plagiare No Dobbiamo Richiamare Diversi Terreno L'altra Nuova carta Per ti All'amenz Appunto Quella Terreno Che è andata A 1 Porti Abyscript Rituale No che era Rituale Questo non mi ricordo World children In darkness Mi pare Che era Sbroccata Ma non mi ricordo Che cosa Fa Aspettiamo Un attimino Che Magari Si carica Salve Ha una carta Rinjitsu Ok Infuggendo All'avversario Target Una carta Di controllo La spacchiamo Se questa carta Sotto il nostro Possesso Lascia Terreno A causa L'effetto D'avversario Moda Il cimitero Bandita Target Quasi Un numero Di mostre Ninja Con nomi Differenti Al cimitero Speciali Ok Non è male Molto buono Ice mirror Acqua mirror Evil eye Triple tattiche Questa Secret Assunta Questa Porta È già Secret Questa Questa C'è il testo Più confusionario Che abbiamo mai visto Già si stanno Parlando Di tattiche Col sigillo Di orical Così non può Specialare È molto Particolare Ma se Cioè Se gli danno Un senso Logico Cioè Magari Il senso Logico Ce l'ha pure Però Comunque Scrivetelo Meglio Insomma Che cavolo Vi devo dire E qui E qui Allora Un set Un po' Ricco Ma anche Un po' Scarlo Devo dire Quindi Ha i supporti Tutti questi Archetype Qui a destra Tantissima roba Ma non ci sono Nuovi Archetype Quindi Vabbè Curib Lasciamo Verde E quindi Vediamo Cosa Ci darà In TCG Anche perché Da noi Magari Ci saranno Archetype Esclusivi Per il TCG Magari Oppure Altri supporti Codi Oppure Altro Staremo a vedere Detto questo Ragazzi Fatemi sapere Cosa ne pensate Noi come sempre Ci vediamo Nel prossimo video E un saluto a tutti